grattare vendati la tirata pesante non male non male due su tre no raga non si capisce niente buono 20 20 10 bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi come vi ho promesso su instagram facciamo una sfida io e la mia crew la brave riders la sfida è semplice ma allo stesso tempo alquanto complicata in ballo ci saranno dei premi questa sfida consiste nel grattare più volte la targa abbiamo fatto dei portatarga abbastanza particolari col cartone e chi gratta vince un gratta e vinci per ogni grattata fatta però una cosa che loro non sanno è che dobbiamo grattare in un modo particolare non le solite grattate perché ragazzi ditemi a grattare siete bravi grattereste praticamente anche occhi chiusi no la sfida consiste nel grattare vendati grattare vendati per restare in tema abbiamo la benda che è questa la mascherina del covid e quindi ogni grattata che uno di noi farà sarà un gratte vinci e lo gratteremo al momento subito dopo la grattata così scoprirete se diventiamo ricchi oppure se questi gratte vinci non ci fanno vincere niente sono 15 quindi abbiamo in totale 15 grattati disponibili dunque ragazzi andiamo al video queste sono le targhe che abbiamo inventato in cartone così si rompono fa niente invece io ho la targa che ho montato nell'ultimo video quella di gt lab farò la visuale della gopro da ognuno dei rider e in più la visuale dalla fotocamera per vedere se ce la fanno oppure no quindi dopo tutte queste premesse andiamo alla parte interessante del video raga incomincio io per solidarietà della mia squadra e niente iniziamo mi bendo no raga non si capisce niente un gratte vinci vai secondo tentativo io ho già rischiato la schiena vediamo se divento ricco con questo Niente ragazzi con questo sono comunque povero Però almeno non mi sono fatto niente Ciao ragazzi Io ho abbandonato la sfida E adesso abbiamo il primo di consolazione Questo sarà vincente 1000 euro 20 Niente Il primo guarda qua Quanto fa? Guarda 1000 euro Ho perso Meglio così 65, 85 Non ho vinto niente Dov'è andare così fratelli Mi dispiace Ah quasi No zio No zio Di un'altra USA O Lloga l'ho sbananizzato un gratta e vinci, vediamo se vinco qualcosa com'è che è? e la somma dei numeri deve essere super raccente e vinci il premio che è nascosto 20 più 20 fa 40 50, 60, 80 90 raga, primo gratta e vinci è andato male questo era doppio tutti, tutti nel secondo turno ne ho fatti 4 perché in una mi dicono che ho grattato due volte quindi vabbè grattiamoli 65 70 50 ha vinto ha vinto raga, ha vinto vabbè, iniziamo così 60 65 secondo, terzo 70 80, 90 il terzo 90 vediamo se divento ricco con il quarto 85 90 90 niente vediamo Fabri è pronto, tre tentativi oh quasi quasi l'hai fatto scusate per il troppo zoom ma l'ha fatto quindi un gratta e vinci per Fabri quasi eccoci raga una grattatina l'abbiamo fatta anche noi vediamo cosa ci becchiamo in questo gratta e vinci 65 raga nada di nada è il turno di Pietrino adesso tocca a lui non capisco dove vado dai raga dai 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 quasi quasi eh è un gratta si nel secondo round ho vinto un gratta e vinci adesso vediamo se ho vinto qualcosa 20 20 10 oh abbiamo già vinto qualcosa è sopra 100 premio 10 euro 10 euro abbiamo vinto 10 è pieno dell'YZ forse è in metà bene terzo round forse ultimo round vediamo un po' questo mi è andato bene adesso proviamo per il terzo ultimo round mi sono fatto due gratta e vinci incrociamo le dita e speriamo di ricomprare la moto nuova però uguale all'USA che vi piace così tanto un altro USA allora allora oh 5 20 50 75 oh 80 85 90 90 quasi devo superare il 100 devo superare il 100 per vincere ultimo gratta e vinci 70 30 per favore 5 e niente a me è andata male gratta e vinci non comprateli mai no tolgo il porta targa perché è troppo facile per lui orco cane orco cane la tirata pesante ooooh ooooh c***o cattivisti ma te sei un c***o l'ha preso? si eccoci raga due grattate e due gratte vinci vediamo se saremo fortunati 60 più 50 ho passato 110 ho passato vediamo raga vediamo il premio se vinci in modo 5 euro vabbè raga non ce la mentiamo per il primo eccoci con il secondo 90 e avremmo vinto 100 100 euro no bella raga raga io è l'ultimo turno ne ho vinto solo uno e mi muovo perché ho voglia di girare 55 e vinci niente dopo che lui è diventato un tavolino per giocare il gioco finisce qua ci siamo divertiti tutti abbiamo giocato abbiamo giocato tranne stem che la sua gomma non andava tanto bene per questa sfida alla tela quindi ha rinunciato fai vedere la gomma eccola lì è tutta te tutta te no dai mica così ci va in giro ancora un altro eeeh senti come vai vieni qua dunque spero che il video vi sia piaciuto lasciate tantissimi like e commentate con delle sfide che noi andremo a fare settimana prossima come i sumo vlog che faceva un tempo però questa volta di gruppo quindi mi raccomando commentate tantissimi arriviamo mi raccomando a 3000 like per un prossimo episodio le sfide con la BRC sumo vlog con la BRC mi raccomando carichissimi supportate il canale supportate la crew vi ripeto lasciate un botto di like e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video let's go let's get it there Grazie a tutti.